Ciao miei cari followers, vi do il benvenuto sul mio canale e sono con voi con un bellissimo video in cui Engin Akurek e Takba Buyukustun, uno dei nomi di successo dell'industria dell'intrattenimento turca, hanno emozionato ancora una volta i loro fan. Engin Akurek, uno degli attori più importanti della Turchia, continua i preparativi per il suo ritorno sugli schermi dopo una lunga pausa. Il partner del famoso attore nel nuovo progetto ha un nome sorprendente, Tuba Buyukustun. Sebbene l'unione di questo potente duo abbia creato grandi aspettative nel mondo delle riviste, i dettagli del progetto e l'armonia della coppia sullo schermo sono stati oggetto di grande curiosità. Engin Akurek è un nome che si è fatto un nome grazie al suo successo e alla sua esperienza di attore nei progetti a cui ha preso parte in precedenza. Cos'è Fatma Gah un crime? Engin Akurek, che ha conquistato un vasto pubblico di fan con le sue interpretazioni in serie tv come Cara Parahask, ed è entrato nel mondo del cinema in film come Birbulu Tolsam e Kokuk Sana Emanet. Takba Buyukustun è considerato uno dei più star popolari in Turchia con la sua bellezza e carriera di attrice. Il grande Ustun, che ha lasciato il segno nella storia della televisione turca con le sue interpretazioni in serie tv come Asi e Gonul Celen, è diventato noto a livello internazionale prendendo parte a numerosi progetti. Takba Buyukustun, scelta come migliore attrice turca come partner di Engin Akurek nel nuovo progetto, è stata accolta come una grande sorpresa nel mondo della rivista. Mentre l'unità dei due grandi attori ha entusiasmato i fan, i dettagli e la finzione della Il Progetto è diventato una questione di curiosità. Prima di iniziare il nuovo progetto, sono state rilasciate alla stampa le prime immagini di Engin Akurek e Takba Buyukustun dal set. Le foto e le pose spontanee condivise da Ich e l'insieme hanno suscitato grande curiosità su quanto fosse speciale e armonioso il progetto. Anche se non sono state ancora rivelate informazioni dettagliate sul progetto, secondo alcuni dettagli trapelati, nello scenario si uniranno amore, avventura ed elementi drammatici. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci, ci vediamo con nuovi video.